So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason? Can't find hope to believe in? Bene, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing. E siccome è già il secondo gioco di questa tipologia che compro, ho deciso di rinominare questi unboxing come unboxing retro, ovvero unboxing di giochi appunto non appartenenti a questa generazione ma alla generazione precedente o ancora più indietro. Comunque sia, di questi episodi non aspettatevene tantissimi perché non ne compro tantissimi di questi giochi, ne compro proprio solo due o tre ogni tanto così perché li trovo a poco prezzo diciamo. Il primo di questi unboxing retro è stato appunto Yu-Gi-Oh! E il secondo quale mai potrebbe essere? 3, 2, 1... Esatto! Need for Speed Underground 2 per Xbox Original. Ma perché l'hai comprato se ce l'avevi già per PlayStation 2? Semplicissimo, siccome nella mia postazione videoludica come potete vedere non c'è più spazio, in nessun punto, nemmeno sopra, neanche lì, no no, ho deciso di cercarlo e comprarlo su eBay per potermelo giocare sull'unica console che lo possa leggere, che ho di quelle montate, la Xbox 360. E ho confrontato la lista presente su internet della retrocompatibilità e questo è perfettamente leggibile, ci si può giocare perfettamente. Come potete vedere, nuovo sigillato, con ancora il sigillo della vecchia Xbox, se no non l'avrei mai comprato. L'ho trovato a 15€, un prezzo non basso per un gioco di vecchia generazione, ma comunque neanche un prezzo tanto alto, diciamo. Andiamo subito a togliere questo cellofan con la nostra solita velocità tipo Superman. Tolto! Apriamo la confezione e subito dentro ci troviamo ovviamente il disco di gioco, con una skin veramente bellissima che riproduce la città di notte, e poi il manuale di istruzioni, che andiamo subito a visualizzare velocemente, ma credo che lo conosciate tutti più o meno il manuale di Carbon. Un manuale non ricchissimo in effetti rispetto ad altri giochi di vecchia generazione, però comunque già con abbastanza spiegazioni che ci spiegano il gioco, la mappa, le modalità e tutte le varie cose che ci servono, oltre a anche la connessione online, perché questo era uno dei primi giochi, il primo Need for Speed, se non ricordo male, a sfruttare la connessione per giocare online, appunto. E basta ragazzi, l'unboxing è finito qui, io spero che vi sia piaciuto, anche se non è una confezione ricchissima, e il gioco non è un gioco ultra raro o ultra conosciuto, però l'averlo trovato ancora sigillato mi ha fatto venire voglia di fare lo stesso l'unboxing. Per cui io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, e mi raccomando sempre il pollice in su se mi volete almeno un po' bene. Ciao ragazzi, alla prossima! Mio!